10 destra 2 meno 30 ritardo appena tornante sinistro diventa 1 gira 20 per destra 3 sinistra 5 la legna sinistra 2 più 20 destra 3 vai 10 sinistra 1 tieni vai 70 tieni diventa 3 per destra 2 meno 10 tornante sinistro 20 sinistra 3 10 destra 3 vai 30 sinistra 5 per destra 2 più 10 10 alla frezza sinistra 2 30 vista destra 2 meno 30 destra 3 per sinistra 3 vai 20 20 20 destra 4 tieni per sinistra 5 30 sinistra 5 30 sinistra 3 vai 30 destra 4 meno 20 sinistra 2 meno 20 20 20 sinistra 2 10 sinistra 2 gira vai 20 sinistra 1 gira vai per destra 5 10 destra 3 destra 3 vai per sinistra 5 30 sinistra 1 20 destra 2 più per sinistra 2 vai per destra 3 tieni per sinistra 4 vai stacca destra 4 stai largo in versione destra 30 sinistra 3 tieni per destra 2 vai si 30 sinistra 3 le case per destra 5 20 destra 5 per sinistra 5 per destra 5 20 destra 5 per sinistra 5 tieni sinistra 5 tieni alla casa destra 3 no vai 30 sinistra 5 30 destra 2 più per sinistra 1 gira 30 sinistra 5 per destra 2 meno vai per destra 5 sento a vista sinistra 5 30 questo sinistra 5 30 destra 5 dosso 30 stai a sinistra chicane destra 4 vai 70 destra 5 50 sinistra 3 meno 10 destra 1 destra 3 per sinistra 2 meno destra per sinistra 5 20 destra 3 traliccio sinistra 3 meno 20 sinistra 3 20 destra 3 20 ponte destra 1 vai 50 arraia il sinistra 3 più 20 sinistra 4 per destra 3 meno tieni per sinistra 3 20 destra 2 per sinistra 5 10 sinistra 1 per destra 5 tieni 30 sinistra 3 vai 30 destra 5 30 inversione sinistra sinistra 4 tieni per destra 2 tieni 30 sinistra 1 vai 30 destra 5 per sinistra 5 30 sinistra 5 per destra 1 arraia il per sinistra 2 destra 5 20 sinistra 2 tieni gira 20 destra 3 vai 50 destra 2 destra 2 a fine sporca 20 sinistra 3 per destra 2 più 30 sinistra 2 vai 30 sinistra 4 meno 20 centi 65 si vuoi 20 per re 23 un 이거 vuoi pode Grazie a tutti.